Musica Carichate gli lights su Youtube Su Youtube caricheremo sia il talk show con Marzone Che l'intervista doppia con lui Ma che è sto rumore? Lo sentite pure voi? In continuazione No, l'intervista doppia è un video ragazzi Non può essere una cosa fatta in live No, no, no Ok C'è l'intervista No, no, no quella non la posso targettare se corpumpa da laggiù cazzo di chi è una mandraga non uso il turbo farming perché i tornei della epic ci ha spessamente richiesto di non far vedere queste cose stavo per quittà se mi piace via di certe cose non 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 Grazie a tutti. 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 No... 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 Mi ha stilato palesemente la kill, ragazzi. Ah... No... 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 No...